segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te perché avere un nemico sempre acceso davanti non serve solo quando c'è sia all'opposizione serve anche quando magari si governa con tutte le difficoltà che il governare impone sì però questo è giusto però con la condizione di disegnare la propria figura in quel modo che insomma ci sono tanti modi di essere un governante un capo di governo c'è chi punta sulla aggressività come fa spesso la nostra presidente del consiglio c'è chi punta sulla compostezza la competenza la serietà l'assiduità sui temi lei ha scelto quel modello lì perché ha scelto quel modello perché corrisponde è un'opinione anche questa perché corrisponde alla vita che ha fatto alla giovinezza che ha avuto al lungo percorso che ha che ha coperto da quando ha cominciato mi pare di ricordare a 15 anni un'attività politica fino a diventare in un tempo abbastanza breve presidente del consiglio prima in italia insomma caro floris queste sono prove che che logorano che che formano una personalità lei è ancora investita tra l'altro pensi che lei è riuscita a fare tutto questo io da questo punto di vista l'ammiro è riuscita a fare tutto questo essendo donna in un partito a forte impronta maschilista avendo un diciamo una preparazione culturale media e dunque con due forti handicap di partenza quindi la durezza della sua esperienza politica della sua formazione la porta a affrontare così da una lettura psicologica non politica del modo di fare della mia idea è questa che lei fatica a spogliarsi di questo abito perché caro floris lei ha fatto vita politica ma molto più di me lei lo sa che cosa sono le assemblee i congressi le riunioni di corrente quale durezza c'è per emergere in quel contesto che è spesso durissimo ecco lei c'è riuscita ed è un'esperienza esperienza la porta anche nel governo però c'è anche una componente è formata c'è anche una componente